Con tanto di giubbotto e del metto con fiamme d'asce, per un giorno i bambini si sono potuti calare nei panni dei Vigili del Fuoco. È tornato infatti ad Arezzo Pompieropoli al Parco Pertini. I Vigili del Fuoco in pensione di Forlie Cesena con i colleghi pensionati a Aretini assieme ad una squadra di Vigili del Fuoco di Arezzo hanno infatti guidato i piccoli aspiranti pompieri simulando interventi e salvataggi. Sono i nostri fans. I bambini quando noi ci si presentano con questi panni sono affascinati. Immeritatamente hanno un affetto nei nostri confronti che a noi ci dà la soddisfazione di quello che facciamo non ci costa sacrificio perché lo vediamo, lo leggiamo negli occhi e loro lo riportano a casa per una settimana, due questa cosa, la esaltano al massimo. I piccoli così si sono cimentati nella simulazione di uno spegnimento di un incendio con un vero idrante nel salvataggio di un gattino sopra ad un albero ed infine in un avvicente percorso ad ostacoli. I piccoli infine hanno ricevuto un diploma di partecipazione firmato da un vero pompiere. Secondo noi è un tramite importantissimo perché noi non abbiamo una grossa cultura sulla protezione, nella conoscenza dei rischi. Purtroppo rispetto ad altre realtà noi siamo abbastanza acerbi in questa cosa. Ecco, loro trasmettono quello che noi diciamo nelle scuole ai genitori.